Siamo davanti a una chiesa della sua parrocchia, è stato colpito dal terremoto e che è in ristrutturazione, vediamo anche dietro alcuni lavoratori. Il 15 novembre ci sarà una Eccaristia nella chiesa di San Bartolomeo sotto le due torri, in occasione della festa dei Santi Coronati. Perché questo avvenimento? È una celebrazione eucaristica che vuole richiamare tutti coloro che lavorano nel campo dell'edilizia. L'occasione è quella di ricordare tutti i defunti, essendo il mese di novembre, e quindi tutti i defunti appartenenti alle varie categorie, a chi è imprenditore, a chi è operaio, a chi è geometra, aperito, è un'occasione di preghiera prima di tutto. Ricordare tutti coloro che lavorano e hanno lavorato in questo campo. E quindi credo sia una bella occasione anche per radunarci insieme e pregare. Il mondo edile ha questa grande caratteristica di essere una famiglia e quindi credo che questa sia una bella occasione per sentirsi sempre più tale. Parliamo del tema della sicurezza sul lavoro. Quale può essere una riflessione da proporre credenti e non credenti? Credo che come Chiesa sia nostro dovere fare questa riflessione sulla sicurezza, ma in generale rivolgerci a tutti e quindi metterci tutti attorno a un tavolo per sentire le ragioni di tutti. Io come prete e noi come Chiesa abbiamo, credo, il dovere di interrogare innanzitutto la parola di Dio e quindi la cosa che noi sappiamo fare è solamente tra virgolette questa.